La prima parte è la prima lezione per l'insegnamento di analisi matematica 3 per il corso di laurea triennale in matematica dell'Università di Ferrara. In questa lezione introduciamo il concetto di norma su uno spazio vettoriale. Una norma è uno strumento che ci permette di misurare la lunghezza dei vettori dello spazio e inoltre è compatibile in un certo senso con la struttura lineare dello spazio. Vedremo poi dopo anche le implicazioni a livello topologico e metrico di questa definizione, oltre a vedere anche alcuni esempi. Sia V uno spazio vettoriale sul campo K. Il campo scalare K, per noi che facciamo analisi, ovviamente è sempre o il campo dei numeri reali o il campo dei numeri complessi. Una norma su V è un'applicazione, una funzione che va da V in R, quindi ad ogni vettore associa un numero reale. Questa applicazione la indichiamo di solito con delle doppie barrette, tale che verifica le seguenti proprietà. La norma di un vettore è sempre una quantità non negativa e se è un vettore a norma nulla, allora si tratta del vettore nullo. Proprietà di omogeneità, se prendiamo un vettore e lo moltiplichiamo per uno scalare, otteniamo un vettore che ha come norma il prodotto del modulo dello scalare per la norma del vettore V. E la quarta proprietà, disuguaglianza triangolare, se prendiamo due vettori U e V, ne facciamo la somma e poi la norma, otteniamo qualcosa che è minore o uguale della somma delle norme dei singoli vettori. Ecco, queste proprietà valgono per ogni lambda nel campo scalare K, reale o complesso, e per ogni coppia di vettori U e V che stanno nel nostro spazio vettoriale. Quando valgono queste proprietà, ecco che si dice che è una norma. Qualche osservazione su queste proprietà. Intanto le proprietà importanti sono la 3 e la 4. Anzi, possiamo dimostrare che 3 e 4 insieme implicano 1. Quindi vediamo un po' le conseguenze di 3. Per esempio, 3 implica che la norma di 0, 0 lo potete pensare come lo scalare 0 che moltiplica un qualsiasi vettore. Questo è un vettore nullo. Questo 0 qui invece è lo 0 del campo scalare, scalare nullo. V è un qualsiasi vettore dello spazio. Per la proprietà 3 questo è il modulo di 0 per la norma di V, ma il modulo di 0 è il numero reale 0, e quindi 0 per un qualsiasi altro numero mi dà sempre 0. Quindi ecco che il vettore nullo ha sempre norma 0. E poi sempre da 3 segue anche che, se andiamo a fare la norma dell'opposto di un vettore, questo lo possiamo scrivere come lo scalare meno 1 che moltiplica il vettore V. E per la proprietà 3 questo è il modulo dello scalare meno 1 per la norma di V, ma il modulo di meno 1 è 1, quindi mi viene fuori la norma di V. Quindi due vettori opposti hanno sempre la stessa norma. E adesso se combiniamo queste due osservazioni con 4, aggiungendo quindi 3 più 4, abbiamo che 0, abbiamo detto, è la norma del vettore nullo, ma il vettore nullo è anche la somma di un vettore col suo opposto, e poi se usiamo quindi qui la disuguaglianza triangolare, questo sarà minore uguale della norma di V più la norma dell'opposto di V, ma abbiamo appena detto che la norma dell'opposto coincide con la norma di V, quindi queste due volte la norma di V. E quindi ecco, questa catena di uguaglianze e disuguaglianze ci prova che la norma di V è sempre qualcosa di positivo, quindi la proprietà 1 è una conseguenza di 3 e 4. Se valgono solo la proprietà 3 e 4, e quindi anche 1 di conseguenza, ma non è garantita 2, allora si parla di seminorma. Cioè una seminorma praticamente funziona come una norma, solo che non è detto che l'unico vettore con seminorma nulla sia il vettore nullo. Ci possono essere anche vettori non nulli con seminorme nulle. Se valgono 1, 2, 3 e una 4 tilde, dove al posto della disuguaglianza triangolare mettiamo la disuguaglianza quasi triangolare, cioè che la norma di U più V è minore uguale di una costante per la somma delle norme, quindi diciamo se esiste una costante K positiva tale che vale questa disuguaglianza, questa si chiama disuguaglianza quasi triangolare, allora si parla di quasi norma. Ok, solitamente se K è minore o uguale di 1, diciamo K deve essere maggiore o uguale di 1 in queste definizioni, scusate. Se K è uguale a 1 abbiamo disuguaglianza triangolare, se K è maggiore di 1, quindi se esiste K maggiore di 1, abbiamo una disuguaglianza quasi triangolare. Anche nel caso della disuguaglianza quasi triangolare, 3 e 4 tilde implicano 1, quindi 1 è sempre una conseguenza delle altre. Ok, se abbiamo una norma su uno spazio, lo spazio si dice normato da quelle norme, quindi se le doppie barre sono una norma su V, la coppia V insieme alla norma si dice spazio normato. Una conseguenza abbastanza immediata della disuguaglianza triangolare è quella che io chiamo la disuguaglianza triangolare rovesciata. Ricordiamo che la disuguaglianza triangolare dice che A più B in norma è sempre minore della somma delle norme, norme A e B due vettori. Se adesso andate a scrivere A come il vettore B a cui sommiamo la differenza fra A e B, per la disuguaglianza triangolare applicata a questa somma, abbiamo che la norma di A è minore della norma di B più la norma di A meno B. ovvero ne segue che la norma di A meno la norma di B è minore uguale della norma della differenza. Quindi la differenza delle norme è sempre minore della norma della differenza. Possiamo scambiare il ruolo di A e B e quindi otteniamo anche che B meno la norma di A è minore uguale della norma di B meno A. Ma A meno B e B meno A sono uno l'opposto dell'altro, quindi abbiamo detto che le due norme coincidono. Questa era una proprietà che abbiamo ricavato un po' fa. e quindi abbiamo la differenza di A meno B e la differenza della norma di B meno la norma di A queste sono uno un valore opposto all'altro, cambiando di segno, e quindi se un numero e il suo opposto sono entrambi minori della stessa quantità allora anche il loro valore assoluto sarà minore di quella quantità. Quindi il valore assoluto della norma di A meno la norma di B è sempre minore uguale della norma della differenza dei due vettori. Questa disuguaglianza triangolare rovesciata. Vediamo qualche esempio. Esempi. Quindi prendiamo un numero naturale D, D sta per dimensione. andiamo a considerare come V lo spazio del campo scalare alla D quindi RD o CD è lo spazio vettoriale dell'algebra lineare quello che conosciamo molto bene quindi su KD possiamo considerare 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 diverse norme per esempio la norma chiamiamo la norma della massa io la chiamo norma della massa che la indichiamo con un pedici U1 qua in basso x sarà un vettore di di KD quindi x è un vettore con K con D componenti x1 x2 xd a ciascuna componente è un numero nel campo K la norma della massa è definita come la somma per J che va da 1 a D dei moduli o dei valori assoluti delle singole componenti oppure abbiamo la norma Euclidea che conosciamo bene la indichiamo con le doppie barre con un 2 in basso la norma Euclidea sappiamo che si calcola prendendo la somma dei quadrati delle componenti tutto sotto radice quadrata oppure abbiamo la norma del massimo la indichiamo con un simbolo infinito e questa è data dal massimo dei valori assoluti o dei moduli di tutte le componenti quando J varia da 1 a D ecco queste tre quantità definiscono delle norme su KD provare che sono delle norme non è difficile sono diciamo tutte abbastanza immediate le proprietà c'è sempre un pelino da ragionare quando si tratta di fare la disuguaglianza triangolare però per la norma della massa e la norma del massimo basta applicare la disuguaglianza triangolare che vale per il valore assoluto o per il modulo in R e in C l'unica cosa dove c'è un po' da ragionare è provare la disuguaglianza triangolare per la norma euclidea ma questo è stato fatto nei corsi di analisi 1 o anzi no di analisi 2 al secondo anno perché quando si parlava dello spazio RN e quindi anche della norma euclidea su RN quindi andate a ripassare un po' le cose fatte nei corsi di analisi 1 e analisi 2 e troverete tutti gli elementi per dimostrare che queste sono delle norme vediamo anche un esempio di seminorma per esempio sullo spazio vettoriale R2 possiamo definire la quantità P di un vettore di R2 xy come la differenza in valore assoluto di x e y questa è una seminorma su R2 beh sicuramente non può essere una norma se prendete P del vettore 1 1 qui vi viene il valore assoluto di 1 meno 1 che fa 0 e il vettore 1 1 è diverso dal vettore nullo di R2 quindi sicuramente P non è una norma però verifica tutte le altre proprietà in particolare vediamo la disuguaglianza triangolare se voi prendete P di x1 y1 e ci sommate un altro numero x2 y2 questo che cos'è è P la somma di due vettori quindi x1 più x2 virgola y1 più y2 e quindi questo è il valore assoluto di x1 più x2 meno y1 più y2 riorganiamo gli elementi di questa somma applicando la proprietà associativa e commutativa quindi questo possiamo prendere x1 toglierci y1 e poi sommarci x2 e toglierci y2 la stessa cosa adesso possiamo applicare la disuguaglianza triangolare che vale per il valore assoluto quindi il valore assoluto di una somma minore della somma dei valori assoluti e quindi abbiamo il modulo di x1 meno y1 più il modulo di x2 meno y2 questo è proprio P di x1 y1 più P di x2 y2 e quindi la disuguaglianza triangolare vale per P l'omogeneità anche anch'essa vale P di lambda volte xy questo non è altro che P di lambda x virgola lambda y e questo è il valore assoluto di lambda x meno lambda y raccogliete un lambda ottenete il valore assoluto di lambda x meno y ma il valore assoluto di un prodotto è il prodotto dei valori assoluti e quindi questo è lambda volte P di x y ecco che quindi P è di fatto una seminorma altri questi sono tutti esempi però in dimensione finita vediamo qualche esempio di uno spazio in dimensione infinita che sono forse anche più interessanti andiamo a prendere come spazio V l'insieme delle funzioni continue sull'intervallo 0 1 quindi questo è l'insieme delle funzioni definite sull'intervallo chiuso 0 1 a valori reali continua F continua anche qui possiamo metterci norme analoghe a quelle che abbiamo messo prima su K D per esempio abbiamo la norma della massa norma di una funzione F e indichiamola con l'etichetta 1 prima avevamo la somma dei valori assoluti delle componenti del vettore adesso il nostro vettore in realtà è una funzione e quindi abbiamo il valore assoluto di F di T invece che sommarlo questa volta al posto della somma ci mettiamo l'integrale ecco questo definisce una norma oppure abbiamo la norma io la chiamo norma dell'energia o norma quadratica anche la indichiamo con la lettera con l'etichetta 2 questa è definita come invece che la somma dei quadrati dei componenti abbiamo l'integrale dei quadrato della funzione però tutto sotto radici quadrata questo è l'analogo nel continuo della norma euclidea per spazi discreti oppure abbiamo anche qui la norma del massimo che è il massimo al variare di T sull'intervallo sul dominio della funzione 0,1 del modulo di F di T se F continua anche il modulo di F è continuo e per il teorema di Weistras una funzione continua su un intervallo chiuso limitato ammette sempre massimo o minimo quindi c'è un valore massimo finito ecco anche queste tre quantità qui definiscono delle norme dimostrarlo la dimostrazione segue facilmente dalle proprietà del valore assoluto e dalla linearità dell'integrale in certi casi l'unica cosa un po' difficile da dimostrare è la disuguaglianza triangolare per la norma della quadratica per la norma euclideo dell'energia e comunque dimostrare la disuguaglianza triangolare per questo tipo di norme sarà una conseguenza poi di tutto quello che faremo più avanti quando parleremo degli spazi di Hilbert dei prodotti scalari perché questa è una norma indotta da un prodotto scalare